Tante terzine from the world. Alle mie spalle vedete il quadro di un pittore ed artista comasco Giuliano Collina e rappresenta l'ultima cena perché oggi andremo con un poeta di spiritualità ortodossa a Kiev nel parco San Vladimiro davanti alla statua di Dante. Infatti Dimitro Cistiak leggerà terzine dalla Divina Commedia, è oltre che poeta traduttore ed è anche segretario della prestigiosa Accademia di Arte, Scienze e Letteratura di Parigi. Sono Dimitro Cistiak, vi saluto dall'Ucraina, vi leggerò le prime due terzine del canto 33 di Paradiso da Divina Commedia di Dante. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura, nobilitasti sì che il suo fattore, non disdegno di farsi sua fattura e vi leggerò la traduzione della prima terzina in lingua ucraina del professore Maxim Strifa. O Divo Mati, Donko Svogo Sino, smerenna i gorda nadusi istoti, psich obertani nebesnich vis nezminna, che la pace sia con noi. Grazie a tutti.